X-Line, la gamma top delle borse morbide di Givi. Si arricchisce di questi due nuovi modelli che sono sicuro reputerete molto interessati. Ora andiamo a scoprirli nel dettaglio. Partiamo dalla XL08, borsa che va a sostituire il top case posteriore con 40 litri di capacità. La cosa molto interessante di queste borse è senz'altro il fatto che uniscano la leggerezza delle borse morbide alle caratteristiche di un bauletto vero e proprio, di quelli che possono essere in plastica piuttosto che alluminio. 40 litri abbiamo detto. All'interno abbiamo una sacca completamente impermeabile, quindi con la chiusura roll top a rigiro, che ci garantisce la totale impermeabilità. Questo ci consente di mantenere asciutti anche se guidiamo sotto la pioggia gli oggetti che trasportiamo, che possono essere gli abiti piuttosto che quello che vi serve durante il vostro viaggio. Quindi anche se la pioggia andrà a bagnare l'esterno, il contenuto della borsa resta comunque asciutto e questo è un aspetto senz'altro interessante. Aggancio, Monokey per entrambe, quindi vanno bene con tutte le piastre che possono essere la M5, la M7, M8 ed M9, oppure la I251, le vecchie M3, insomma tutte quelle piastre che usano il sistema Monokey. Abbiamo detto 40 litri, abbiamo due pratiche tasche laterali e una posteriore a rete per gli oggetti di primo utilizzo, chiamiamoli. Cerniere YKK, marchio registrato che contraddistingue un prodotto top di gamma, ossia super affidabili su queste borse. Abbiamo la possibilità tramite questi pratici passanti di trasportarla con gli spallacci che ci sono in dotazione, oppure con queste cinghie possiamo legare, che so, la giacca, il materassino se facciamo camping. Insomma è una borsa che si può anche modulare. Passando alla XL09, quella che va ad essere la laterale di questa gamma da abbinare all'XL08. L'aspetto interessante di questa, che ricordo è una 33 litri, è che possiamo usarla sia come laterale che come top case. Andiamo a vedere dietro il classico sistema di aggancio Monokey che troviamo anche su altre borse di questa famiglia. I fori, questi forellini che vedete, vengono utili nel caso in cui ci sia qualche piccola infiltrazione o accumulo di umidità di qualche gocciolina che si forma cristagna. In questo modo può defluire e mantenere completamente asciutto il contenuto della nostra borsa. Anche qua abbiamo questi passanti dove andremo ad agganciare lo spallaccio per trasportarla quando arriviamo a destinazione. Abbiamo due tasche interne, una che è una porta documenti e l'altra che va a sfruttare lo spazio inutilizzato che abbiamo all'interno del coperchio. Tasca esterna, anche questa come possiamo vedere con cerniera, quindi per gli oggetti di primo utilizzo senza dover staccare la borsa dai telai. Ricordiamo che questa gamma, come tutte le altre borse morbide peraltro della gamma Givi, hanno un trattamento anti UV testato su 1500 ore. Quindi questo significa che nel tempo le vostre borse manterranno questo aspetto e queste colorazioni, non andranno a sbiadire. Materiali di prima qualità, anche in questo caso le cerniere top di gamma. Abbiamo i pullers delle zip sulle quali possiamo mettere un lucchettino per aumentarne la sicurezza, evitare che ce le aprano se lasciamo la borsa attaccata alla moto, ma ricordiamo che abbiamo la comodità di avere in entrambe il sacco estraibile, quindi arriviamo a destinazione, possiamo tranquillamente lasciare agganciate alla moto le nostre borse e ci portiamo il contenuto con il sacco che c'è all'interno e andiamo dove dobbiamo andare, in camera piuttosto che in tenda e dove volete. Amici spero di avervi illustrato in maniera esaustiva le caratteristiche di queste borse della gamma X-Line. Per qualsiasi ulteriore curiosità, domanda, non esitate a contattarci, c'è un form sul nostro sito, la mail info-gv.it oppure attraverso i social dove rispondiamo prontamente. Ci vediamo alla prossima e grazie a tutti, ciao!